Il dialettico, a me la dialettica interessa proprio professionalmente, direi che è sempre stato il mio hobby maggiore, la donna è un po' interessante e misteriosa e ambigua come la parola, ma soprattutto insisto è forte, tant'è vero che il mio credo politico attuale è questo, dovrebbe dare tutto il potere alle donne che sanno fare e l'hanno dimostrato le cose importanti, portano avanti la specie, difendono gli istituti, hanno soprattutto il coraggio e la dignità di fare queste cose e l'uomo dovrebbe diventare un oggetto di piacere, non so quanto piacevole, ma secondo me l'uomo è fatto per trillare delle canzoni sugli alberi come i petti rossi, per tessere la lana, soprattutto per inventare le favole.